Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere come far capire a una ragazza che ti piace non appena ti presenti a lei. Io sono Gio di Lorenzo e questa è www.seduzionattrazione.com Partiamo da un presupposto, ragazzi. Ci sono molti modi per far capire a una ragazza che le vi piace. Ce ne sono alcuni sbagliati e ce ne sono altri giusti. Ad esempio adesso ti parlo di stretta di mano, tanto per cominciare, quindi nel momento in cui ti presenti, ma non è detto che perché le fai capire che le piaci, in realtà stai subcomunicando qualcosa di positivo a lei. Perché diciamo che io faccio una cosa del genere. Mi giro verso la ragazza, vado verso lei, quindi completamente in verso maggiormente e con la mano sono lì che tremo. Sì, le sto mostrando che le piaccio, ma molto probabilmente non in un modo in cui lei possa apprezzare. Mettiamola così. Ora, quindi quello che voi volete fare come primissimo step è l'essere maschile sin da subito e questo comporta due cose. Fondamentalmente darle una stretta di mano che sia corretta e mantenere ad un livello minimo quello che è l'eye contact con lei. Ora vi spiego perché ha un livello minimo. In ogni caso partiamo da qualcosa di semplice. Do la mano alla ragazza e questo è un qualcosa di estremamente normale e tu puoi farle capire che le piaci anche distogliendo quello del tuo sguardo, per esempio. Quindi non guardando la ragazza negli occhi. Però questo non sarà visto come un qualcosa di positivo. Molto meglio è se tu guardi quella che ha la ragazza negli occhi mantenendo forte eye contact e crea una situazione di questo tipo. Un passo in più in quello che possiamo fare è anziché dare una stretta di mano come a quella a cui normalmente si è abituato, cioè quella che abbiamo appena visto, è portare la ragazza maggiormente verso noi, cioè farla entrare in quella che è la nostra realtà. Questo si fa semplicemente creando una specie di angolo a 90 gradi con quello che è il tuo braccio e guardando fisso la ragazza negli occhi, di modo che nel momento in cui c'è una conversazione lei sarà inconsciamente portata a venire verso di me e quindi quando mi dà la mano investe in quella che è l'interazione, entrano maggiormente. Ora, quello che tu puoi notare fondamentalmente è che qui siamo ancora in una situazione in cui sì, ok, meglio di niente, ma è una stretta di mano che se togli quella che è la prosemica, cioè la distanza fra di noi, potrebbe essere fra due colleghi. Quello che tu invece vuoi andare a fare è creare una stretta di mano di questo tipo, dove il tuo palmo è rivolto verso l'alto, il suo dorso dà sul tuo palmo e di conseguenza è una stretta di mano che due persone che si trovano in una situazione di, non lo so, amicizia, lavoro, eccetera, eccetera, non si direbbero. Ce lo puoi vedere in un business meeting, una stretta di mano di questo tipo? Molto probabilmente no. E quello che tu vuoi fare, ovviamente a questo punto, è mantenere l'icontact dritto con la ragazza ed è importante che lei cali quello che è il suo icontact per primo. Quindi devi fare uno sforzo, anche se so che non ce la fai, nel mantenere quello che è il contact, perché guarda cosa succede fondamentalmente se sono io a calare il contact. Diciamo che abbiamo fatto anche qualcosa di positivo, abbiamo portato la ragazza in questa posizione. La sto guardando negli occhi e sono io che distorgo lo sguardo per primo. Quello che succede è che fondamentalmente è ripartito così e finisci così. Un'altra cosa che vogliamo fare è subcomunicare a ragazza che a lei ci piace, perché ricorda che tu vuoi subcomunicare interesse, semplicemente non vuoi farlo in una maniera che la faccia sentire di un valore troppo alto rispetto al tuo. Quello che tu vuoi fare, quindi, è farlo anche tramite quello che è l'utilizzo della tua voce. Diciamo che ritorna nuovamente in una situazione come quella che abbiamo appena visto, quindi, dove la ragazza è entrata nella mia realtà con anche una stretta di mano uomo-donna e diciamo che quindi siamo così con la ragazza. E quindi una delle situazioni migliori dove ti puoi trovare, lei fondamentalmente sta investendo molto di più di quanto non lo fai tu, e tu sei in una situazione più confortevole, per così dire. Infatti, puoi notare lo sforzo che lei deve fare, sforzo tra virgolette, per venire fin qui. Diciamo adesso, e questo lo fanno moltissimi uomini, che tu le dico qualcosa del tipo Oh, quindi, come ti chiami? A volta. Ora, non so se noti, quello che è il mio pitch vocale va verso l'alto. E la problematica con questo è che in realtà questo è un pitch vocale che utilizzerebbe una donna quando è interessata a un uomo. Facciamo un tentativo, riesci a fare un pitch vocale di questo tipo? E allora, come ti chiami? Probabilmente sarebbe ancora più alto. Però, tanto per farti capire che se tu in realtà ti comporti come la ragazza si comporterebbe, non stai facendo qualcosa di particolarmente maschile. Ora, nello specifico, non voglio andare troppo sul tecnico, ma ci sono tre tonalità vocali. Una che va verso l'alto, quindi sarebbe qualcosa del tipo Oh, wow, quindi come ti chiami? Una neutra, come ti chiami quindi? E una che scende verso il basso. Torniamo in quella che era la posizione di prima, cioè Amanda viene verso di me, è nella mia realtà, abbiamo creato la stretta di mano, una donna, tutta una serie di cose positive, ok? Quindi, ho la mano così, lei torna in quella che è la mia realtà, abbiamo l'icontact fra me e lei, puoi addirittura avere una mano in tasca, qualcosa del tipo così. Per quale motivo questo? Nonostante nei libri di linguaggio del corpo ti direbbero che avere una mano in tasca, è un qualcosa di sbagliato, in realtà, quando è che tu terresti una mano in tasca? Quando ti trovi davanti a qualcuno con il quale o con la quale ti senti estremamente rilassato, e quindi sarebbe qualcosa del tipo, quindi, come ti chiami? Amanda. Ora, quello che tu vuoi notare è che non devi fare tutte queste cose, ma possono succedere tante, tante problematiche quando fai tutta questa roba, potresti investire di più di lei. Non so se noti, sono qui, se mi muovo solo leggermente verso Amanda, in realtà, la sua mente inconscia capta... Quindi, come ti chiami? Amanda. Da una situazione che sembra uomo-donna, in realtà mi comporto in maniera abbastanza femminile. Non avrebbe assolutamente senso. E quindi, questo è un qualcosa che tu vuoi evitare in questo tipo di situazioni. Stop! Non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti, il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi, clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.